Musica Busse e vaporetti fermi per 24 ore, oggi a Venezia oltre il 90% del personale a CTV aderito allo sciopro del trasporto pubblico locale, lunghe code e disagi verso Piazzale Roma. Musica Decine di imbarcazioni da Chioggia a Venezia, le zattere per la manifestazione dei pascatori di vongole messe in ginocchio da ammucillaggine, granchi o due a cambiamenti climatici, ultimo appello alla politica. Noi postali veneti costretti a subire gravi imposizioni per evitare la chiusura degli uffici la denuncia dei dipendenti postali che venerdì 29 novembre scenderanno in piazza. Truffe sulle auto di lusso, blitz e sequestri per 1.200.000 euro della Guardia Refinanza e Procura di Venezia e il truffatore in pluri pregiudicato veneziano e la sua famiglia. Ad un anno dal femminicidio di Giulia Cecchettin, primo via libera in regione, alla proposta di legge per un osservatorio contro la violenza di genere, ora il provvedimento atteso all'approvazione in consiglio. Da oggi al via i lunghi festeggiamenti per il San Martino in terraferma, inaugurata a Marghera la pista sul ghiaccio e poi domeniche dolcetti con l'arrivo a messa del santo in sella al suo cavallo bianco. Due fratelli e la complicata gestione di ubende breakfast, parte 3, qui i voci risate, stasera alle 20.10 debutta la nuova sitcom di Antenna 3 con Igar Barbazza e Davide Stefanatto. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Questi dunque titoli in apertura, l'avete sentito, dal rinnovo del contratto alle aggressioni del personale. Il trasporto pubblico locale si è fermato per 24 ore in tutta Italia, paralizzando anche Venezia con l'adesione dello sciopero che è stata del 94%. Una lunga coda di automobili è incolonnata sul Ponte della Libertà. Per chi non può arrivare a Venezia in treno è l'unico modo di raggiungere la città in una giornata in cui per 24 ore il trasporto pubblico locale si è fermato in tutta Italia. In Veneto l'adesione è stata massiccia. A Venezia, dove la protesta è aggravata anche da questioni prettamente locali, lo sciopero è stato pressoché totale, 90% su gomma e 94% in laguna. Chi arriva a Piazzale Roma poi si trova di fronte ad un deserto che ricorda da vicino il primo periodo del post-lockdown. In pochissimi si aggirano alla ricerca di un mezzo. Non sapevo che c'era sciopero. Con una pizza da asporto in mano, la ragazza del Nord Carolina cerca di capire come raggiungere la terraferma. Io vengo da Schio, ma... Lo sapeva che c'era sciopero? Sì, lo sapevo, l'ho saputo ieri sera. Da quanto sta aspettando? Beh, un'oretta. Non ha perso ogni speranza di prendere un autobus la giovane di New York che deve raggiungere Milano. Le basta arrivare a Mestre, dove ha parcheggiato la macchina. Per un giorno, intanto, a Venezia non si parla di moto ondoso e neanche di turismo di massa. In un orario in cui è solitamente stipato di persone con vaporetti che arrivano e partono stracolmi, l'imbarcadero di Rialto è completamente deserto e silenzioso. Probabilmente anche alcuni di coloro che dovrebbero pilotare quel vaporetto che non arriverà mai sono lontanissimi, a circa 400 chilometri di distanza, a manifestare a Roma davanti al Ministero dei Trasporti. Abbiamo bisogno che ci sia un intervento legislativo per la riforma del trasporto pubblico locale per classificarlo come servizio essenziale. Dobbiamo ritornare ai livelli degli anni 90 e dei primi anni 2000. Abbiamo un'altra grave preoccupazione, le aggressioni. Le aggressioni stanno diventando un male che non possiamo assolutamente sottovalutare. Un contratto che dia uno stipendio dignitoso, un contratto che assicuri l'equilibrio tra vita lavorativa e tra vita privata. Poco dopo arriva un primo risultato. Il Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, ha stabilito l'avvio ufficiale di un tavolo di confronto a partire da martedì 12 novembre che coinvolgerà tutte le parti in causa. È stata definita la tempesta perfetta sotto assedio del granchio blu e della mucillagine devastata dalle mareggiate. La pesca veneta è nuovamente in ginocchio a Venezia. La manifestazione dei pescatori che chiedono aiuto per salvare il settore dalla scomparsa. Illuminata da un pallido sole autunnale, una flotta di pescherecci salpati da Chioggia, da Caorle, da Pellestrina approda alla fondamenta delle zattere. Negli ultimi anni non è la prima volta che i pescatori arrivano a Venezia per denunciare le difficoltà di un settore che tra razzie del granchio blu, danni da mareggiate e aumento delle temperature dell'acqua, assedio di mucillagini e persino nuovi vincoli europei giudicati estremamente penalizzanti sta affondando in una crisi profonda. Questa volta però la richiesta di aiuto che si alza dalla costa veneziana ha il sapore drammatico dell'ultima chiamata. I mesi appena trascorsi hanno lasciato macerie di un comparto che ora teme per la sua stessa sopravvivenza. Diciamo che è stata l'alluvione del 5 maggio che poi si sono conseguite altre cause perché di fronte all'alluvione poi c'è stato l'estate caldissima, le acque facevano 30 gradi in superficie, 28 a terreno e l'inalzamento delle temperature, poi successivamente sono arrivate le mucillagine. Tutto questo ha creato anossia ed è morto tutto. 100% di moria di vongole, circa il 60% di cozze, pescherecci fermi e pescatori che tra poco potrebbero avere seri problemi persino a mettere assieme il pranzo con la cena. Un intero comparto che rappresentava un fiore all'occhiello dell'economia regionale e un'indiscussa eccellenza a livello nazionale si confronta su quello che è diventato un interrogativo drammatico. Il tema è avremo ancora un futuro della pesca in Veneto e in Italia? Secondo l'Unione Europea no, secondo i mercati commerciali invece sì, ma cosa accadrà? Che toglieremo produzioni locali di valore, con valore aggiunto di qualità e di proprietà organolettiche importanti e avremo prodotto importato. Se questo è lo scenario, se la gente vuole questo. Una delegazione delle associazioni dei pescatori è stata ricevuta prima in Capitaneria di Porto, quindi in prefettura e infine in consiglio regionale. Sul tavolo non c'è solo la richiesta di aiuto per superare la crisi attuale, da estendere a Roma e a Bruxelles, ma anche un piano strutturale per fronteggiare una situazione che i cambiamenti climatici renderanno sempre più frequente. Dare la possibilità alle nostre imbarcazioni di fare le attività ecosistemiche, ossigenazione, transazione di prodotto, quindi riseminare tutto il litorale Veneto. Per fare questo ci vuole benzina e quindi questo andremo a chiedere all'istituzione. Aiuto ai pescatori rimasti senza lavoro è un piano strutturale per difendere il comparto dal terremoto dei cambiamenti climatici. La politica Veneta ha ricevuto a Venezia le richieste della categoria per salvare il settore. Abbiamo già richiesto l'attivazione dello stato di emergenza a seguito di calamità naturale, anche per la mucilagine, così come abbiamo fatto per il granchio blu. Abbiamo destinato risorse sia regionali sia riguardanti i nostri fondi strutturali europei, il FEAMPA, per prima la tematica granchio blu e adesso stiamo lavorando per un provento specifico, per quello che è il danno alle vongole di mare. L'assessore regionale alla pesca, Cristiano Corazzari, è sulla banchina delle zatteri ad accogliere personalmente i pescatori che dalla costa sono arrivati a manifestare a Venezia. La moria di quasi il 100% delle vongole ha messo nuovamente il settore in ginocchio, ma ad accogliere i manifestanti ci sono anche i consiglieri regionali di opposizione, Erika Baldin del Movimento 5 Stelle e Jonathan Montanariello del Partito Democratico. Non è la prima volta che ci troviamo qui a Venezia a manifestare perché la pesca è in ginocchio. La pesca è in ginocchio da tantissimo tempo in realtà perché appunto si parla di continua mancanza di risorsa. Se aumentiamo l'Irapo per pagare la Pede Montana con quelle risorse a libera destinazione ancora meglio possiamo prendere quei soldi dell'aumento dell'Irapo per dare 2 milioni ai pescatori. Un invito all'unità arriva invece dal terzo consigliere regionale di Chioggia presenti alla manifestazione, il leghista Marco Dolfin. Non c'è colore politico, questo voglio sottolinearlo perché a prescindere dai ruoli dell'appartenenza dobbiamo fare squadra perché qua c'è un interesse unico che è quello di salvaguardare il mondo del lavoratore, le nostre tradizioni, la nostra storia. A rappresentare il Comune di Venezia Alessandro Scarpa Marta delegato alle isole e alla pesca. Il pescatore che acquista la barca ha un punto da pagare e quindi bisogna stare vicino a queste famiglie con i bambini che vanno a scuola, che devono studiare, pagarsi i libri, quindi il governo deve garantire i fondi necessari alle famiglie dei pescatori veneziani. Anche i dipendenti di poste italiane pronti allo sciopero generale venerdì 29 novembre. Dal 16 di dicembre assisteremo alla riduzione dei giorni di apertura, alla riduzione delle aperture pomeridiane e alla chiusura di interi uffici di tutta la rete delle poste in Veneto. Il grido d'allarme lanciato dalla CGL su Venezia significa che impatterà per il 10% del totale degli uffici a cui si aggiungono quelli oggi già chiusi per manutenzioni che vanno avanti da mesi, mesi e mesi. Va nelle mobilitazioni dei residenti con totali chiusure per la sordità di poste italiane così gli stessi abitanti come quelli di Trevignano quando a inizio ottobre scorso si erano battuti per salvare l'unico servizio rimasto in zona. Oggi a denunciare sopruse e imposizioni sono gli stessi dipendenti postali. Chiedono l'anonimato però per questione di tutela lavorativa e personale. Il problema è che per mantenere aperti gli uffici grandi viene tolto il personale agli uffici piccoli. Con i direttori di filiale costretti a mansioni di sportello e all'opposto semplici impiegati costretti ad assumersi in responsabilità anche penali da direttori di filiale contro tali imposizioni già vinte dal sindacato ben tre avvertenze. Cosa succede? Che la mattina stessa io ho un distacco. Il distacco è che mi devo spostare dall'ufficio mio di radicamento ad un ufficio X in provincia vista l'angessità e la carenza. Così alcuni dei racconti e denuncia sui disservizi delle poste in Veneto come il prossimo spiega di come l'emergenza sia diventata oramai routine e così al mattino costretto ad aprire un ufficio rispetto a dove era stato destinato 45 km più in là non abbia accesso alla cassaforte e quindi al contante. Quindi di fatto vengo mandato in un ufficio, quell'ufficio mi dicono apri un'emergenza. Cosa vuol dire? Che non è stato possibile fare il controllo incontraddittorio della cassaforte. Non ho l'accontante quindi periodo di pensioni non potrò impagare, erogare. Di fatto quell'ufficio è un ufficio che non ha nessuna funzione. Postali che col sindacato hanno già calendarizzato una data su tutte. Il 29 sarà sciopero generale promosso da CGL e Will e quindi senz'altro anche negli uffici postali noi crediamo ci sarà un'ottima adesione. Siamo alla cronaca truffa delle auto di lusso. La Guardia di Finanza di Venezia sequestra beni per 1,2 milioni di euro a un pregiudicato veneziano. Maxi truffe sulle auto di lusso tra Veneto e Friuli con sequestri per oltre 1 milione 200 mila euro nei confronti di un truffatore veneziano 37enne noto per la sua lunga carriera criminale. Il truffatore si faceva versare ingenti somme di denaro a titolo di caparra per l'acquisto di auto di lusso di importazione estera. La maggior parte delle quali mai consegnate il Maxi Blitz ad opera dalla Guardia di Finanza di Venezia, nucleo di pulizia economico-finanziaria su disposizione della Procura di Venezia, sequestrati tra Venezia, Pordenone e Costa Smeralda, sette immobili e liquidità finanziarie depositate nei conti correnti personali e societari. Le frodi si protraevano da tempo con il 37enne truffatore che insieme ad alcuni componenti della sua famiglia e grazie ad un giro di diversi prestanome compiacenti esercitava il commercio di veicoli tramite concessionarie intestate a terzi, evadendo gli obblighi fiscali e riuscendo nel tempo ad accumulare una fortuna per circa 2 milioni di euro. I beni oggetto di sequestro sono stati ora affidati alla gestione di un amministratore giudiziario. Ad un anno dal femminicidio di Giulia Cecchettin ha ottenuto il via libera all'unanimità oggi in commissione al Consiglio regionale del Veneto la proposta di legge con prima firmataria la capogruppo del Partito Democratico Vanessa Camani per l'istituzione dell'osservatorio regionale contro la violenza di genere. A distanza di un anno dall'uccisione di Giulia spiega questa proposta ha ottenuto un prima via libera da parte di tutti i consiglieri regionali che siedono nelle commissioni competenti un'animità politica che è la miglior risposta al rischio di un'inerzia istituzionale. Camani aggiunge che in questi 12 mesi il ricordo di Giulia ha continuato ad accompagnare e a stimolare la nostra attività in Consiglio regionale. Ora il provvedimento è pronto per l'Aula, forte appunto di un'anime condivisione. Manca solo un ultimo passaggio all'approvazione in Consiglio regionale che chiediamo avvenga in tempi stringenti. L'Istituto Nazionale di Ricerca Demopolis è stato premiato con il Leone d'Oro a Venezia per i suoi primi vent'anni di attività. È stata soprattutto l'occasione per tracciare un quadro di quelle che sono le aspettative degli italiani che nella nostra regione e in Laguna. In queste ore tiene banco il dibattito sulle elezioni americane, ma quali sono le aspettative degli italiani sulle priorità per il nostro paese? L'occasione per tracciarne un quadro, inedito e molto significativo, è stata la premiazione a Venezia dell'Istituto Nazionale di Ricerca Demopolis, diretto da Pietro Vento, che da oltre vent'anni, monitora con efficacia le aspettative degli italiani. Vento e Maria Sabrina Titone, giornalista professionista del team di ricerca, hanno ricevuto il riconoscimento nella sede della regione Veneto. Che prospettive ci sono dal vostro punto di vista, appunto per il peso del vostro osservatorio? È un momento in cui quando si parla con gli italiani, con i cittadini, due temi vengono fuori con la testa. In passato si parlava più del lavoro e oggi si parla maggiormente del problema del costo della vita, quindi del contenimento dell'inflazione da un lato e dei problemi della salute dall'altro. È un problema che comunque in Veneto è meno rilevante, meno sentito, perché è una regione nella quale il tema della salute, il tema della sanità funziona decisamente meglio rispetto a tante altre regioni del paese. È stato un grande onore ricevere il leone d'oro e dare a Venezia oggi un riconoscimento per questi vent'anni di attività, non solo quella personale, ma quella di tutto il gruppo di ricerca. Commovente l'omaggio, rivolto da tutta la sala in piedi, ad approvire il ricordo di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e tutti gli eroi che anche in questo tempo combattono la mafia. L'impegno di Falcone e Borsellino è stato molto importante, molto simbolico a ricordarlo oggi. Negli anni giovanili fondai un giornale di battaglia, il Pungolo, con il quale Falcone e soprattutto ancora di più Paolo Borsellino in modo costante e per un modo di collaborare accanto ai giovani siciliani. Da oggi al via i lunghi festeggiamenti per il San Martino in terraferma. Domenica San Martino arriverà in sella al suo cavallo bianco, lo farà a mestre raggiungendo in Viale San Marco il Sagrato della Chiesa San Giuseppe subito dopo la Messa delle Dieci e poi distribuirà i suoi dolcetti per la gioia dei bimbi che potranno a loro volta dare gioia ad altri bimbi grazie al riciclo di giocattoli e libri. Il rigiocattolo è un modo direi anche intelligente per diciamo anche qui a livello soprattutto di bambini, ragazzini di condividere ciò che troppe volte invece viene semplicemente usato in velocità e poi buttato. Sempre domenica anche Marghera ospiterà il Santo, leggerà a tutti i bimbi la sua storia per tornare con le maestre e tutte le scolaresche lunedì 11. Il classico San Martino in piazza domenica, poi abbiamo San Martino a Casa Bioni e poi abbiamo la consegna dei San Martini piccoli come al solito lunedì mattina. Già pronti i dolcetti da distribuire domenica in piazza a mercato. Ne abbiamo ordinati mille per la precisione, degli quali 800 sono da consegnare il lunedì agli alunni, quelli che frequentano le scuole dell'infanzia qui a Marghera, cioè gli asili praticamente. Prima di maestre Venezia al Via, venerdì sera 8 novembre, la pista sul gaccio di Marghera con mercatini, animazione musicale, giocolerie e magia. Devo dire che il gradimento da parte di tutti, dei cittadini, non solo giovanissimi ma delle famiglie e quant'altro ha indotto a continuare questa tradizione. Tradizione anche nel nome della sicurezza, visto che la pista sul gaccio di Marghera resterà aperta per i prossimi 100 giorni. Marghera ha bisogno di un presidio, presidio fisso per 116 giorni che poi seguirà con altri venti, sempre organizzati dal Comune di Venezia. Risate e divertimento con cancellazione gratuita in onda da questa sera alle 20.10 su Antenna 3. Una sitcom che vede protagonisti due attori trevigiani, Igor Barbazza e Davide Stefanato, nel ruolo di due fratelli impegnati nella gestione di un bed and breakfast. Appuntamento ogni venerdì alle 20.10, poi replica il sabato alle 20.50, tra la domenica alle 13.35 e il martedì alle 23.00. E questa era la nostra ultima notizia, ora la sigla e poi le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci.